Ciao a tutti, bentrovati. Siamo qui oggi in questo cappodromo Le Porte di Milano per presentare e testare alcuni dei nuovi prodotti targati di Valzer facente parte della nuova collezione 2013. La ditta tedesca ha deciso di puntare forte su questa tecnica per quest'anno affiancando le già presenti Masterpiece 2, una nuovissima serie di canne denominata Fiderace. Si tratta di una serie di 5 canne che vanno ad inserirsi perfettamente con quelle dell'altra serie. Le Masterpiece sono delle ottime canne polifunzionali che possono essere utilizzate in diversi contesti dalla pesca in canale, a fiume o in laghetto. Mancava però una canna dedicata esclusivamente alla pesca in cappodromo, motivo per cui è nata la Method Fider. Come tutte le canne della serie Fiderace, è realizzata con un carbogno ad alto modulo IM8 di fattura giapponese che ha aumentato le prestazioni della canna, specialmente per quel che riguarda la precisione nelle fasi di lancio. Si tratta di una canna con un'azione molto parabolica, molto di più rispetto a quelle che avevano presentato lo scorso anno. Una parabolicità, anche specialmente sulla pesca nelle cappe, può risultare fondamentale durante il recupero del pesce. Come tutte le canne da feeder, anche la Method è divisa in tre pezzi. L'unica differenza rispetto alle altre canne è che non presenta tre cimini, ma un unico cimino che non è intercambiabile con le altre canne. Il manico è realizzato con il sughero e presenta una componente alla base realizzata con un materiale anti-scivolamento che è indispensabile durante le fasi di pesca con le mani bagnate. Ha una lunghezza di 3,75 metri, pari a circa 12 piedi e una potenza massima di 55 grammi, con un ingombro nel trasporto poco più di un metro e mezzo. In termini di costi, tutta la gamma della feeder race risulta essere più economica rispetto alle zamata Loma Steps 2 e per quel che riguarda il dettaglio la Method feeder se rapportata con prodotti della stessa linea di altre marche, il rapporto qualità-prezzo è di poco eccezionale. Una canna che soddisfa al meglio tutte le necessità del pescatore. Direi che adesso abbiamo detto tutte le caratteristiche tecniche di questa canna, possiamo iniziare a pescare e vedere se riusciamo a prendere qualche pesce e vedere in azione questo nuovo prodotto della base. Grazie. 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 Grazie.